E' stato convocato per il prossimo 6 agosto il Consiglio Comunale di Eboli. La seduta, che si terrà nell'aula consigliare a partire dalle ore 19, vede all'ordine del giorno l'assestamento generale di bilancio, l'aggiornamento del catastro delle aree percorse dal fuoco negli anni 2015, 2016 e 2017 ed una mozione legata alla manutenzione e alla messa in sicurezza della strada Fiocche e la Storta.